1995 ho detto giusto? Sì, sì. Il sindaco di Cecina, io così ti voglio ribattezzare, perché lì te la comandi, fa poco motivare, è vero? Sì, diciamo che sono conosciuto molto a Cecina anche perché è una cittadina piccola, però spero di continuare a far bene l'amofato fino ad ora e questo premio ci deve rendere orgogliosi però nello stesso tempo bisogna essere più umili di prima. Tuo idolo? Lui idolo è del Piero anche se sono milanista. Ancora? Ma da tutti del Piero? Anche perché credo un so quanti persone qui non ha meno del Piero.